Place Bianchi Ma io... Oddio? Mare! Ma, non rimarrò da sti geno, dov'è scelma, questo è distà! Wato... ... ... ... io ti sto a perscattare contro la luna a mio caso è il tuo! Sbrigati, sta suarrivando Marte! È fantastica, onda energetica contro il terreno! Andiamo direttamente da super! Oh, adesso armate Marte sul sole! Spero che è perfetto, spendo alternative! Ehi, sei venuto qua vicino! Ehi, di patelli, vedi qua attorno? Eh, no! E poi, appunto, devi affinare l'esplosione! No, non possono essere morti! Non può! Non può essere successo! E uno! E due! Magari è a merito di questo, non è della criptonite, ma c'è della natura, delle foglie, del terriccio! Beh, i minerali sono criptonite, è un minerale, è sempre natura, no? Aspetta, ma questo può anche sparare l'acqua! Ah, figo! E posso anche volare! Perché se non ci ha volato normalmente, quindi è abbastanza inunchile! Comunque, dove è finito con cosa stai? Aspetta, ma Yoshi non è morto! Ah, perché mi hai pescato? No! 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 No!